il premio la pellicola d'oro eccoci qui nel 2020 quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fare questo evento qui all'aperto per il covid anche con i grossi problemi del covid grazie alla RAI e RAI Movie siamo riusciti a portare avanti il decimo anno e a ricordarsi totalmente delle maestranze del cinema italiano di questi dieci anni che cosa ci vuoi raccontare di più? adesso forse niente ma dopo qualcosa in più perché adesso vedo che vengono altre persone che devo salutare ricordiamoci comunque dei dieci anni di quest'anno ok allora ci vediamo più tardi ciao